In tante città piemontesi si è celebrato il Friday for Future, anche ad Alba i giovani in piazza a favore dell'ambiente. Numeri da isole felici per l'occupazione tra Alba e Bra, ma non per tutte le categorie. Vale 8 miliardi l'export della provincia di Cugno ed è in crescita. Tra Lange e Monferrato il turismo valorizza anche le vecchie locomotive a vapore. All'Università di Pollenzo 10 milioni sono andati in borse di studio. Storie di giovani che hanno voglia di rendersi utili in strutture solidali. Il gioco d'azzardo smontato con la matematica da una tra le migliori insegnanti italiane. Il vescovo di Alba delegato in Piemonte per la tutela dei minori. Ecco come la Chiesa combatte gli abusi. Intervista alla figlia di Che Guevara, portavanti la rivoluzione di mio padre. Elezioni, continua la presentazione di candidati in lista alle comunali come alle regionali. Queste e tant'altre notizie su Gazzetta d'Alba, in edicole online dal martedì.